den giro col trial den giro col cross ciao io sono Silvia e stiamo trasmettendo dallo studio fotografico Plastic Wombat di Torino oggi parleremo delle mood board e questo mi mette molta 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 ansia perché io sono un'utilizzatrice tardiva delle mood board e questo perché tutti i video delle mood board che avevo visto fino a un certo punto mi avevano solo trasmesso l'inutilità della mood board in particolare l'inutilità per quel che riguarda il mio lavoro cioè mi sembrava che il gioco valesse la candela per progetti molto più complessi che coinvolgessero anche molte più professionalità e quindi l'avevo sempre snobbato quindi adesso io sto facendo un video sulle mood board dove invece dovrò convincervi della loro estrema utilità allora per far questo iniziamo con l'esempio della lista della spesa allora voi potete anche decidere di non fare la lista della spesa avete 4-5 cose da comprare, ve le ricordate, uscite e le comprate ecco normalmente se non dovevate comprare 4-5 ne comprerete 4 quindi il primo vantaggio della lista della spesa è di non dimenticarsi nulla e di aver tutto sotto controllo cosa ovviamente che potete capire se stiamo parlando di uno shooting è anche molto importante se però decidete di andare a scrivere una lista della spesa quindi sedervi con un foglio davanti o con un'app davanti per segnare vedete che il vostro modo di ragionare cambia perché vi focalizzate su quello che state facendo quindi per esempio se scrivete che avete bisogno dei biscotti per la colazione vi si aprirà nel cervello la scatola colazione e quindi penserete ok yogurt che mangio sempre a colazione ne ho andate a controllare in frigo vedete che ne avete due e che quindi con due yogurt non andate molto lontani quindi è meglio aggiungere yogurt in modo da non dover tornare a fare la spesa dopo due giorni quindi altre cose che possiamo ad esempio ottenere per associazione di idee e se scriviamo pellicola trasparente immediatamente noi pensiamo anche all'alluminio e alla carta forno quindi possiamo dire ok andiamo a controllare se abbiamo delle scorte di alluminio e di carta forno se ne abbiamo un pochino possiamo scriverci sì solo se in offerta per esempio e così stiamo facendo già qualcosa di molto più ragionato che ci permette di fare una spesa che duri e che non ci obblighi appunto a continuare a fare avanti indietro dal supermercato quando avremo di meglio da fare ma questo può servire anche in una famiglia in maniera collaborativa perché a questo punto passo la lista della spesa a mio marito che guarda magari lui se vede lo yogurt pensa al latte al burro fa altre associazioni di idee e dice effettivamente sta finendo anche il burro e lo segna oppure segna delle cose che sono solo di sua pertinenza potrebbe aggiungere la schiuma da barba perché questo ovviamente se non lo sa lui chi lo sa però magari non avrebbe messo il bagno schiuma se ne sarebbe dimenticato e invece vedendo che ho messo io il bagno schiuma lo mette anche lui quindi c'è questa parte collaborativa integrativa che va molto meglio rispetto a partire con 4 idee in testa e andare al supermercato ora questa è una mood board in qualche modo già noi la chiamiamo mood board partendo da lavagna con l'idea che tutto questo si faccia su una lavagna appiccicando dei ritagli di riviste, delle note, delle citazioni appunto è un grosso collage su una lavagna ovviamente non è molto utile per fare la lista delle spese ma è utile quando invece dobbiamo trattare qualcosa di visuale per esempio appunto nel caso della fotografia o del video making o per chi fa grafica o potrebbe essere anche un arredatore uno stilista, qualunque persona che debba mettere insieme le idee per un risultato visuale e non abbia solo bisogno di mettere insieme le idee ma abbia bisogno di condividerle con dei collaboratori ed avere eventualmente del feedback e condividerle anche con dei clienti e avere anche da loro un feedback per capire se stiamo andando in una direzione giusta cioè la mood board la dobbiamo pensare come qualcosa che è in continua evoluzione e se arriverà a un certo punto ad un risultato finale voi potete dire ok sì ma a me a casa mia cosa me ne faccio no per esempio se volete dare una rinnovata al salotto non sapete se boh cambiare il tappeto o comprare un nuovo mobiletto bar ecco invece una mood board dove fate le foto dei vostri mobili scaricate da internet delle foto di mobili che vi piacciono ambientazioni che vi piacciono comprate una rivista di architettura di interni e prendete delle pagine con delle soluzioni che vi piacciono vedete che questo vi può aiutare a trovare la soluzione la soluzione più sensata che non andare da Ikea e comprare il primo trogolo che sembra possa aggiungere qualcosa all'ambiente e la stessa cosa è se avete per esempio bisogno di un nuovo capo per c'è bisogno avete piacere di comprarvi un nuovo capo per l'autunno una pianificazione a mood board partendo dai vestiti che già avete partendo da cosa va di moda quest'anno da cosa vi piace vi permetterà di non comprarvi un capo duplicato quindi una cosa che in fondo già ne avevate uno e quindi non aggiunge molto al vostro guardaroba o di comprarvi un capo che non sapete in realtà con cosa mettere e quindi rimane lì in mezzo ad altri orfani ora per finisco di blatterare vi faccio vedere una mood board vera semplice perché se no possiamo andare avanti delle ore che ho realizzato per un cliente privato una famiglia, una coppia di mezz'età, un uomo e una donna con due figli maschi tra i 25 e i 30 anni allora parlando prima con loro quello che mi è stato comunicato era che lei essendo l'unica donna aveva un po' voglia di essere protagonista insomma aveva detto non so la regina o qualcosa del genere la regina non erano molto d'accordo gli altri però ho capito che appunto c'era voglia di protagonismo però con il resto della famiglia che fosse anche un po' di protezione un po' di coccola eccetera allora ho detto va bene che ci avrei pensato avrei fatto delle proposte e la proposta che è piaciuta di più è stata quella della diva che viene protetta dai bodyguard mentre arriva a un grande evento sul red carpet questa è piaciuta allora ho cercato di dare forma a quest'idea per capire anche la fattibilità e soprattutto di cosa avremmo avuto bisogno per realizzarla perché ovviamente se devo realizzare una foto di questo tipo posso contare sì in parte su cosa già ha il cliente devo organizzarmi anche su appunto procurare tutto quello che è necessario per mettere insieme il set allora come prima pagina della mood board la vediamo io sto semplicemente illustrando la situazione diva che arriva sul red carpet con i bodyguard questo non significa che l'immagine finale dovrà assomigliare a una di queste ma semplicemente io sto spiegando qual è la situazione qua in mente giusto per essere sicuri che ci siano capiti probabilmente ci siano capiti ma a scanso di equivoci questa è la situazione nella seconda pagina invece vado a perfezionare un po' gli atteggiamenti delle persone cioè la diva per come la vedo io per come sto immaginando io la foto la diva sta uscendo dalla macchina questa è una cosa importante non è dentro che si intravede dal finestrino non è già fuori in piedi e questa è la mia idea ovviamente devo sottoporla al cliente per vedere se piace poi invece nell'altra metà del foglio ho messo atteggiamenti da bodyguard quindi affinché gli uomini potessero ispirarsi negli atteggiamenti da prendere quello che insomma io mi sarei aspettata da loro sul set ecco una volta approvato questo allora entriamo nella terza pagina dove io inizio a concretizzare un po' come cioè di quali elementi avremo bisogno e cosa porteremo effettivamente sul set gli uomini ovviamente un completo scuro quello non c'era molto da dire e abbiamo subito stabilito che ce l'avevano questo è un bene altrimenti sarebbe stato necessario procurarseli e poi invece appunto per la diva io avevo pensato appunto a un vestito di questi a sirena e poi mi sarebbe piaciuto farlo un po' eccessivo quindi mettere guanti d'oro e scarpe d'oro che io lì ho messo come riferimento visuale ovviamente anche lì si poteva discutere la scarpa piace d'oro sì ma magari di raso non in glitter oppure no sia guanti che scarpe d'oro mi sembra troppo allora voglio la scarpa in tinta blu col vestito su questo si sarebbe potuto discutere invece questa proposta è piaciuta e poi la macchina, l'automobile questa avevamo disponibilità quindi sempre per approvazione io l'ho mandata e il red carpet cosa importantissima in realtà è la palette di colori ora la palette di colori se fosse stata una foto su incarico per conto ad esempio di un'azienda che ha già un logo una sua identità visiva allora chiaro mi avrebbero dato loro la palette e io avrei dovuto attenermi alla loro palette per realizzare la foto in questo caso se andava semplicemente a gusto allora io ho scelto questa palette di un rosso, un blu oro e bianco e nero ovviamente come vedete il blu non è lo stesso del vestito ma questo non importa cioè si deve fare riferimento alla palette e non a ciò che si vede questo sta a significare che qualunque vestito blu io trovi lo ricondurrò al blu che si vede nella palette approvato questo passiamo a una pagina che invece è puramente sessuale dove facciamo l'elenco di tutto quello che abbiamo che io ho a disposizione in studio in questo caso a questo studio siamo qui io dico tutto quello che ho e invece nella pagina successiva dico quello che mi manca ovviamente i tre completi neri da uomo non siamo arrivati a questo punto per scoprire che mi mancavano ma ne avevamo già parlato prima avevamo stabilito che loro li avevano quindi chiedo semplicemente se lei ha un collier d'oro o di bigiotteria comunque insomma un po' vistoso e se hanno un auricolare bluetooth da far usare al bodyguard e quindi ovviamente in questo caso fortunatamente ce l'avevano altrimenti l'avrei procurato questo è un po' fine della mood board no perché voi la vedete a questo stato di non finito ve l'ho voluta far vedere così perché poi ovviamente l'ultimo passo invece l'ultima pagina scompare e abbiamo solo più l'elenco di tutto quello che dobbiamo portare sul set ovviamente per una foto di questo tipo è necessaria la mood board perché io devo arrivare a far capire al cliente che tipo di foto verrà fuori oltre ad organizzare tutto il set perché come capite organizzare tutto per me comporta anche un costo in tempo di termini e di denaro prima ancora di realizzare lo scatto se poi non piace è veramente un problema allora adesso vi faccio vedere quello che è invece la foto finale così mi dite se dalla mood board era quello che vi aspettavate o no e capiamo anche appunto quanto è stata efficace la mia mood board ecco qua la scena ok in questo caso è andata bene perché era quello che si aspettavano quindi almeno con l'orso riuscite a comunicare bene e fine cioè potrei continuare a farvi vedere mood board anche più lunga e più complicate ma non credo che sia utile l'utilità di questo diciamo il messaggio che vi voglio dare è ora sapete cos'è una mood board quindi se qualunque professionista che lavora nel campo visuale a cui vi rivolgerete vi presenterà una mood board o vi dirà ecco ma qui c'è da lavorare una mood board non cadete davvero sapete che è questo e sapete che potete contribuirci anche in maniera attiva la seconda cosa importante che annuncio qui è che il nostro servizio di concept session varia un po' rispetto agli anni passati quindi da adesso dal primo novembre che è ora praticamente come vedete già dalle decorazioni di Halloween lavoreremo su mood board proposte da noi quindi questo video era anche introduttivo per farvi capire cosa vi spetta se volete questo servizio di Plastic Wombat allora io direi che così abbiamo concluso e io vi saluto io sono sempre Silvia Vaulà dallo studio fotografico Plastic Wombat di Torino ciao 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 Grazie a tutti.